No, Angelica, volevi dire qualcosa? Sì, Francesco, qui siamo in difficoltà con Giulia perché... Cosa è successo? I giurati maschietti non ci sono d'aiuto questa sera, in quanto Daniel è fidanzato e per noi... Non lo può portare? No, sono tutte brutte e bella sua fidanzata sua. Jacopo ha detto che è miope e quindi per cui da lontano sono tutte belle. No, ma questa cosa la dicono tutti gli uomini che sono tutte belle. Totato, quindi siamo in difficoltà. Poi io so perché sei miope mio, non lo dica. Va bene, andiamo avanti.